Al grave avevamo tante storie la più conosciuta era quella del fabbricante di lacrime era capace di confezionare lacrime di cristallo erano passioni laceranti un giorno capiranno chi sei veramente perché chi sono questa meronarca è una minaccia è un consiglio avevo sempre creduto nelle favole avevo sempre sperato di viverne una io ora c'ero dentro ma era una favola sbagliata come pensi che andrò a finire questa storia grazie a tutti Grazie a tutti